Presidente, parte una nuova stagione dopo il terzo posto dell'anno scorso, quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono cercare di migliorare, come dalla lettera di convocazione che ho fatto alle ragazze, gli ho fatto una battuta, perché dobbiamo migliorare di due posizioni a confronto di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Una battuta o no, però è quello che vogliamo fare, si parte dalla terza posizione e si cerca di migliorare come ogni anno, cercheremo di far meglio. Le concorrenti si sono rinforzate, ma anche il Brescia, pur avendo abbassato la media età, possiamo dire che ha fatto un passo in avanti? Sicuramente che abbiamo fatto un passo in avanti, le concorrenti si sono rinforzate tutte, il Tavagnaco soprattutto ha fatto uno squadrone, Chieselli, Sermuzzanica, bene o male mi sa che quest'anno si è spalmato un po' di più la competitività di queste squadre qua. Noi abbiamo lavorato, abbiamo preferito lavorare su ragazze più giovani per avere una continuità futura. Siamo andati a prendere tre giovani della nazionale under 20, su richiesta del mister i tre ruoli, la centrocampista che è arrivata alla Rosucci, un difensore che è arrivato alla Pedretti, stiamo lavorando ancora sulla punta. Poi si sono aggregate le tre giocatrici della primavera, oltre ai due portieri, Marisa Gornu, che è un ritorno, e Mori Lucia, che è la giocatrice, il portiere della nazionale slovena, che dovrebbe aggregarsi al gruppo il 26 agosto, perché adesso appunto è in ritiro con la nazionale. Presidente, per quanto riguarda le novità che arrivano dalla divisione calcio femminile, è soddisfatto della situazione attuale? Assolutamente no. Penso che siamo nel caos più assurdo, più profondo possibile. Purtroppo col commissariamento che c'è, età vecchio, più di tanto questo del calcio femminile a quanto pare non gli interessa. Delega tutto ad altre persone, ma che sono incompetenti. Nazarena, un nuovo gruppo, una nuova stagione che parte. Quali sono le tue prime impressioni? Le prime impressioni sono positive, perché è da giovedì che stiamo lavorando veramente alla grande, sotto il sole. C'è anche lo spirito giusto, perché si suda, ci si diverte. I presupposti per partire sono stati ottimi, quindi anche le nuove si sono adeguate. Oggi si aggregherà il gruppo anche la Pedretti, quindi siamo contenti. Partiamo con la consapevolezza di aver fatto veramente due giorni di intesso lavoro, ma comunque col sorriso sulle labbra, che è la cosa più importante, perché comunque il calcio deve rimanere sempre un gioco. Quest'anno si è abbassata ulteriormente la media età della squadra, ma ciononostante il briscio punta sempre ai vertici, perché la squadra è ancora competitiva. Sì, sì. Abbiamo adottato questa politica, perché credo che la società fa bene a puntare sulle giovani. Sono tutte giovani che hanno anche un'esperienza internazionale, quindi penso che possono aumentare ulteriormente il tasso tecnico della squadra. L'importante è che c'è la consapevolezza da parte di tutti di collaborare quando ci saranno da fare delle scelte, perché comunque un allenatore deve scegliere, quindi il gruppo è forte, compatto e sarà difficile anche scegliere. Però ho la consapevolezza che rispetto all'anno scorso, quest'anno anche a fare certi lavori, soprattutto a livello fisico, hanno risposto veramente bene. E queste risposte sono state supportate anche dai test che hanno fatto le ragazze al centro sportivo di Bergamo. Elisa, quest'anno alcuni volti nuovi, ragazze giovani, ma si punta sempre in alto? Sì, l'anno scorso è stato un bellissimo campionato, per cui cerchiamo di migliorarci. Rispetto all'anno scorso sono arrivate meno ragazze, per cui dovrebbero integrarsi prima. Speriamo di far bene, stiamo lavorando duro, speriamo poi questo lavoro ci paghi durante l'anno. Abbiamo visto che nonostante il caldo, nonostante la fatica, vediamo sorridere, il clima è molto disteso, già si vede che è un bel gruppo. Sì, sicuramente, c'è un bellissimo clima, stiamo ridendo, ci stiamo divertendo nonostante la fatica, per cui speriamo continui così.